segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te con il cittadino italiano marco minniti con l'ex ministro marco minniti e anche con il calabrese marco minniti perché succede che c'è quel naufragio e noi sentiamo le parole del ministro dell'interno piantidosi poi lui ha detto sono stato frainteso forse perdendo l'occasione di dire chiedo scusa mi sono espresso male in maniera dritta chiara netta in ogni caso il ministro piantidosi dice sono stato frainteso rispetto ad alcune frasi che ricordiamo tutti io temo le ricorderemo a lungo cioè quando dice che è irresponsabile la disperazione non giustifica chi mette in mare i propri figli su quelle imbarcazioni e poi dice che se fosse capitato a lui di vivere in una condizione tale per cui poteva scappare lui dice sono abituato alla responsabilità e quindi io resto perché mi chiedo cosa posso fare io per il mio paese quindi c'è la citazione di kennedy e dopo le parole del ministro ci sono le interpellanze alla fine va a parlare alla camera al senato e poi succede che c'è tutto un disguido non saprei come chiamarlo sulle bare ci sono quei familiari che aspettano di capire come fare per rimpatriare i loro cari le salme dei loro cari che apprendono improvvisamente quelle salme le stanno spostando a bologna e nessuno ha chiesto loro un parere un'opinione gli ha spiegato ha cercato di capire le loro esigenze dopo che mattarella stesso aveva detto ditemi di cosa avete bisogno cercherò di aiutarvi li faremo rimpatriare faremo di tutto per chi arriva a questo comando da chi arriva a questo comando dal ministero dell'interno infine oggi il sindaco di crutone non è stato invitato nemmeno a fare accoglienza diciamo al governo che arriva e se ne è lamentato dicendo noi siamo un pezzo di questa storia noi ci stiamo facendo carico sarebbe stato importante essere lì allora io le chiedo che in che modo stanno in relazione le cose che io ho messo in fila stanno in relazione perché il governo la politica è anche sentimento è sentimento e sentimento non sembra una cosa strana vede nella storia del nostro paese lunga ci sono stati leader o partiti politici che a certo punto hanno avuto una rottura sentimentale con il paese non perché non fossero capaci ma perché sono avvenute delle cose che hanno rotto quel punto di connessione a mia memoria quelli che hanno avuto una rottura sentimentale non si sono mai più ripresi suggerisco quindi di trattare i sentimenti con particolare cura di non pensare che i sentimenti abbiano un colore politico vede un sindaco non rappresenta soltanto una comunità rappresenta lo stato rappresenta le istituzioni rappresenta il punto più vicino delle istituzioni al territorio e tutto si può dire tranne che la popolazione di Crotone e di Cutro non abbiano fatto fino in fondo il loro dovere insieme attivo di ricerca di misericordia e pietà attivo non vorrei qui nemmeno per un attimo dimenticare quel pescatore che ha raccontato la sua storia svegliato alle 5 del mattino dalla guardia costiera italiana che gli dice lei è un pescatore bravo conosce bene la costa vada lì perché c'è stato un naufragio un pescatore e lui è andato lì non si è mosso per 14 ore è chiaro andrebbero ringraziati se posso permettermi lo facciano adesso all'ultimo minuto chiamino quel sindaco chiamano quel pescatore non per partecipare al consiglio dei ministri ma per ringraziarli per ringraziarli a nome dell'intera comunità nazionale e perché vede la coesione sentimentale di un paese è importante sempre poi nelle tragedie è ancora più importante e non ci sono burocrazie che tengono se mi si consente lo dico veramente con il cuore in mano non vorrei nemmeno che per un attimo si potesse pensare a critiche diciamo tra virgolette di carattere politico lungi da me dal poter pensare in questo momento di avere un pensiero politico anche perché le hanno detto che lei è il più cattivo di tutti perché è cominciata da lei ed è colpa sua questo diciamo tra virgolette diciamo è un'abitudine che viene sempre ripetuta a volte anche dimenticando quello che si è fatto anzi non conoscendolo nemmeno con un pizzico anche se mi consente di ipocrisia mi perdoni se la interrompo perché alcuni di quelli che dicono che tutto è incominciato con me quando io ero ministro all'interno venivano da me per complimentarsi va così la vita e nella vita va così la vita in